nuovo dpcm da stasera scatta il coprifuoco alle 22 coronavirus le marche superano i 500 ricoveri 60 sono in terapia intensiva il turismo pesarese si rimbocca le maniche agli stati generali carpegna prosciutto basket ospita varese sognando il tristi vittorie una buona serata a tutti voi telespettatori di rossini tv canale 633 del digitale terrestre e ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale della sera che come ogni giorno vi tiene compagna con tutte le principali notizie della provincia di pesaro e urbino oggi venerdì 6 novembre è la prima giornata di entrata in vigore del nuovo dpcm questo significa che da questa sera alle 22 scatta il coprifuoco fino dalle 22 fino alle 5 nelle marche come in tutta italia si potrà uscire in questa fascia oraria solo per comprovate urgenze di lavoro o di salute e lo si dovrà fare con autocertificazione scaricabile dal sito del viminale le marche lo ricordiamo sono zona gialla ovvero l'area con restrizioni meno limitanti da domani però saranno chiusi centri commerciali nel weekend salvo i negozi presenti all'interno come farmacie genere alimentari edicole e tabacchi fino al 3 dicembre rimarranno chiusi anche musei e biblioteche oltre alla confermata chiusura di cinema e teatri le marche come detto sono una zona gialla una definizione cromatica calibrata sull'andamento dei contagi la cui crescita nella nostra regione resta stabile sebbene è sostenuta dopo il picco dei 698 casi positivi di ieri sono infatti 697 i nuovi contagiati rilevati nelle ultime 24 ore su 2.185 tamponi del percorso nuove diagnosi dati che dicono come la percentuale di tamponi effettuati che risultano positivi è attualmente del 31,8 per cento dei 697 casi sono 112 i soggetti sintomatici la provincia di peso rubino conferma un trend di crescita molto più basso del resto della regione con 51 nuovi casi contro i 218 della provincia anconetana o i 203 di quella ascolana attenzione però sempre alta sui ricoveri che nelle marche sono arrivati a 504 27 in più di ieri salgono a 60 quelli in terapia intensiva ed ora la cronaca una donna di 42 anni è stata trasportata in eleambulanza in ospedale in seguito a un incidente stradale nel comune di tavuglia lungo la strada feltresca per cause in via d'accertamento la donna al volante di una chevrolet orlando si è scontrata con una fiat panda guidata da un'altra donna che però non ha riportato gravi conseguenze l'incidente è avvenuto attorno alle 13 la donna di 42 anni invece è rimasta incastrata nelle lamiere e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarla il 118 a corso insieme alla polizia stradale ha ravvisato subito l'importanza delle ferite riportate dalla donna allertando l'eleambulanza disagia la circolazione stradale bloccata per un paio d'ore ed ora ci occupiamo degli stati generali del turismo un appuntamento che a pesaro si è ripetuto oggi per il sesto anno consecutivo in una modalità inedita a distanza vediamo il servizio un turismo da ricalibrare sui tempi che cambiano pesaro ha tenuto oggi la sua sesta edizione degli stati generali del turismo un analisi a 360 gradi del comparto della ricettività calato anima e corpo nei tempi che corrono quelli di un 2020 ferito dalla pandemia e di un 2021 gravato da un carico di incertezze ancora tutto da decriptare non a caso l'abituale parterre di ospiti è diventato virtuale con un'edizione a distanza sulla piattaforma zoom che non ha rinunciato ai suoi ospiti d'eccezione da giorgio gori primo cittadino di bergamo alla sindaca di garmi spartenkirchen elisabetta coq fino alle prospettive offerte dal presidente enit giovanni bastianelli era importante confrontarci era importante partire da alcuni numeri dall'analisi dei dati di quello che ha funzionato quello che non ha funzionato e anche di quello che probabilmente anche una domanda nuova che il turismo inizia avere nel nostro territorio abbiamo visto una crescita del turismo ad esempio delle coppie delle famiglie che è un dato importante da cui ripartire abbiamo visto quali sono i punti di forza anche dal punto di vista della salubrità di quello che si cerca in un momento del genere spazi aperti spazi larghi e quindi su questo ritorneremo anche parte dalla nostra azione è stato bello farlo appunto senza diciamo divisioni territoriali senza visioni o steccati politici di nessuna di nessuna natura ma invece con voglia di costruire tutti assieme per il bene del nostro territorio perché il turismo ripartirà ripartirà magari diverso noi saremo in parti diversi parte anche nella misura in cui saremo stati bravi a ripensarsi però serve questo sforzo di insieme delle città pesero fan urbino pesero gradare gabice con questo protocollo che lancieremo nei prossimi giorni legato alla riviera del san bartolo e la provincia di pesero timbino all'interno della regione marche e la regione marche dentro il sistema paese importante anche il contributo dato dalla sindaca di garmi sul pubblico tedesco anche sullo scambio tra pesero a baviera rispetto ai flussi turistici legati alla cultura e legati anche al all'outdoor e alla sostenibilità di percorsi a piedi bici eccetera e anche il progetto lanciato assieme a gori di bergamo e anche quello che potrebbe riguardare le città con testimoniali importanti come rossini e donizzetti pesero bergamo ma anche cucini plucca parma con verdi eccetera per promuoversi all'estero in un anno 21 che sarà anche di forte promozione all'estero passando anche per dante che comunque è una figura che legherà molte figure del nostro anche del nostro territorio e per promuoversi all'estero assieme alla rete della del ministro degli esteri e del mibac per fare grossa promozione dell'italia non solo delle tre città principali che ovviamente torneranno con la riapertura di voli un grande turismo come milano venezia e roma ma anche all'italia che a partire dalla cultura dalla bellezza e dai centri storici e dall'arte può dire tanto e può dire tanto in rete quindi questa amo gettato da bergamo anche in linea con l'ingresso di bergamo assieme a noi ora nelle città creativi unesco è sicuramente una trassa importante di lavoro che guarda anche verso la corsa di fano a capitale italiana della cultura 2022 e invece l'obiettivo già raggiunto di bergamo a capitale italiana 2023 quindi anche qui un palcoscenico un terreno di lavoro comune tra le città che costituiscono parte di questo progetto e con l'obiettivo più grande generale più volte richiamato della capitale europea della cultura 2033 che riguarderà tutta la provincia di pese rubino e fra le problematiche relative al turismo c'è anche lo stato di sofferenza degli albergatori fanesi che dopo un'estate complicata lamentano ora l'assenza di lavoratori in trasferta e per questo motivo diverse strutture rischiano di chiudere per alcune invece si prospetta la trasformazione in covid hotel vediamo tutto nel servizio realizzato da simone celli c'erano una volta gli hotel annuali quelli che non chiudevano subito dopo l'estate ma che rimanevano operativi anche dopo settembre grazie al via vai di agenti di commercio e di altri lavoratori in trasferta poi è arrivato il covid a cambiare le carte in tavola tra l'economia in affanno il diffondersi dello smart working con la fine della bella stagione le strutture alberghiere si sono ritrovate improvvisamente senza clienti il natale allo stato attuale è difficile immaginare che con le festività ci sarà il solito ragguardevole flusso di turisti ed è anche per questo che a fanno diversi hotel stanno per chiudere i battenti aspettando la prossima estate quest'anno come stagione non bisogna dire che andata bene come ha detto qualcuno e ne male malissimo perché chi ha fatto la stagione lunga che giugno luglio è andata male veramente male abbiamo avuto un agosto discreto naturalmente quello che è importante che in questo momento invece le 15 strutture che sono aperte sono tutte alla canna del gas perché non c'è commerciale non c'è neanche non solo il commerciale ma anche quel flusso di persone che sono di passaggio sulla nostra regione non c'è perché lavorano tutti da casa zero clienti ma le spese sono sempre tante per questo gli albergatori invocano l'aiuto della regione in questo momento cosa dobbiamo dire che la regione Marche ci dia un aiuto un aiuto veramente importante perché in questo momento siamo tutti alla canna del gas perché le bollette stanno arrivando le tasse come avete visto bisogna pagarle allora bisogna vedere anche qualcosa che la regione faccia come ho chiesto e ho parlato con qualcuno di dare il contributo che andato l'altra volta in base alle stelle e naturalmente anche in base alle strutture che sono già aperte che naturalmente alla fine di questo mese chiuderanno l'emergenza sanitaria è dunque la causa principale di questo momento di stasi ma paradossalmente è la stessa pandemia a fornire una mezza soluzione perché in tutta la provincia di pesaro urbino verranno selezionati due covid hotel vale a dire due strutture adeguatamente attrezzate che possano ospitare persone positive o semplicemente in quarantena nella nostra provincia solo due solo due le strutture che hanno chiesto vedremo chi verrà scelta e naturalmente e chi aderirà a questa iniziativa e torniamo ad occuparci di sanità dopo la chiusura per cedimenti strutturali della residenza per anziani e briciotti di monbaroccio il consigliere regionale andrea biancani sollecita il ripristino della struttura proprio in questi giorni ho deciso di presentare un'interrodezione in consiglio regionale dove chiedo alla giunta regionale i tempi di riapertura e se c'è l'intenzione di riqualificare la struttura del briciotti di monbaroccio ricordo che il briciotti di monbaroccio è stata chiusa per i primi di ottobre per problemi di agibilità e in quel momento aveva al suo interno 19 ospiti in un momento come questo dove ovviamente i posti letto sono veramente molto importanti ritengo che riuscire a riaprire la struttura quindi riattivare 19 posti letto aiuterebbe sicuramente a decongestionare i ricoveri nelle altre strutture del territorio ricordo però che monbaroccio in realtà ha già accreditato autorizzato non 19 ma 40 posti letto quindi 21 posti letto ormai sono anni che non vengono più attivati da questo punto di vista sarebbe importante riuscire a individuare anche le risorse per una ristrutturazione complessiva della struttura ovviamente sia per riqualificarle quindi garantire la possibilità di ospitare 40 persone e non solo 19 ma ovviamente anche risorse per poter assumere un nuovo personale in queste ultime settimane abbiamo come dire abbiamo sempre sentito parlare di una possibilità di assumere un nuovo personale e anche ovviamente si vuole puntare molto sulla sanità del territorio io penso che sia giunto il momento di dare una risposta sicuramente concreta al brecciotti quindi alla comunità di monbaroccio che devo dire è con questa struttura aperta sarebbe importante sia per cui per dare una risposta rispetto ai bisogni di assistenza che ci sono sul territorio ma anche produrrebbe sicuramente effetti positivi sia per quanto riguarda l'occupazione ma anche riflessi economici per l'intera comunità ed ora lo spazio dedicato alle segnalazioni di voi telespettatori che come sempre vi invitiamo a indicarci al numero che vedete in sovraimpressione il 370-366-7210 numero whatsapp dedicato in cui potete inoltrarci foto e video oggi ci occupiamo di un caso di abbandono di rifiuti segnalato da una nostra telespettatrice ci troviamo tra strada della fornace vecchia e strada dei pioppi carreggiate che come potete vedere alle mie spalle corrono parallela all'autostrada a 14 che si trova proprio qui ci troviamo infatti precisamente a un centinaio di metri dal casello autostradale di pesaro e ci troviamo in questo luogo per rispondere alla segnalazione di una nostra telespettatrice di nome annarita telespettatrice che ci mostra come sotto questo ponte che diventa un sottopassaggio all'autostrada si è diventato un incivile consuetudine gettare rifiuti che si ammucchiano ormai a intervalli regolari chi ci ha segnalato questo stato di degrado in passato ha infatti già sporto denuncia per abbandono di rifiuti alla polizia municipale polizia che ha poi allertato gli operatori ecologici per la rimozione ma il fenomeno come possiamo constatare continua a ripetersi l'immondizia continua nuovamente ad accumularsi e si va dagli scarti di lavorazione a rifiuti insacchettati scaricati in questo punto che è distante da zone residenziali ma che è spesso transitato da cittadini che passano in bicicletta o portano a spasso il cane un fenomeno sicuramente incivile ingiustificabile ma anche di difficile spiegazione perché non si comprende per quale ragione questi rifiuti non vengano correttamente smaltiti nei tanti cassonetti presenti nella nostra città domani sabato 7 novembre scendono di nuovo in piazza del popolo a pesaro baristi ristoratori gestori di palestre agenzie di viaggio e tutti quegli esercenti piegati dalle limitazioni del covid un sit in di protesta organizzato dal gruppo ore che dal movimento così provateci voi una manifestazione di protesta che ve lo ricordiamo sarà trasmessa anche da rossini tv a partire dalle 18 e 30 vedete la nostra grafica la manifestazione viene intitolata 18 e 01 il futuro dopo le 18 riferimento all'orario di chiusura imposto ai locali dal nuovo dpcm manifestazioni che non si legano a quelle fin qui portate avanti dal ristoratore umberto carriera che ieri ha comunicato di aver inoltrato ricorso straordinario al presidente della repubblica mattarella nel quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento disposto dalla questura di pesaro che ha sospeso per 15 giorni la licenza del ristorante alla macelleria proprio carriera è stato in diretto protagonista di una disputa a distanza a colpi di messaggi facebook fra vittorio sgarbi e il sindaco mattio ricci sgarbi annunciato per questa sera di cenare nel ristorante di carriera per poi spostarsi dopo cena san moreno sottolineando l'assurdità della chiusura delle 18 a pesaro quando a pochi chilometri queste limitazioni non esistono ricci ha controbattuto dicendo a sgarbi che può certamente venire a pesaro ma che troverà ristoranti chiusi così come impone la legge 100 per cento di didattica a distanza anche per le università ma non per gli studenti del primo anno che potranno continuare a seguire corsi in presenza e questa l'ultima ordinanza regionale firmata ieri sera dal governatore della regione marche francesco acquaroli che si adegua a parametri nazionali dunque le matricole ad urbino tornano all'università le lezioni saranno predisposte in aule magne o comunque nei più ampi spazi possibili e per partecipare alla didattica in presenza bisognerà prenotarsi attraverso un'apposita app realizzata dall'ateneo urbinate loredana longhin è la nuova segretaria generale della spi cgl il sindacato dei pensionati la longhin è stata eletta dall'assemblea provinciale dopo otto anni di segreteria di catia rossetti e domani si terrà la cerimonia ed addio a fabio renzi nel campo del cristo re l'avvocato 51enne conosciutissimo in città e scomparso martedì in seguito a un malore nella sua casa di viale cesare battisti sarà commemorato dalle 14 alle 16 30 da amici e parenti per ragioni di sicurezza di contenimento al contagio da covid 19 saranno ammesse nel campo del cristo re soltanto 100 persone nelle prossimo servizio ci occupiamo di una malattia invalidante come la fibrosi cistica e delle progetto pesarese di raccolta fondi finalizzata ad alleviare la quotidianità e il sostegno alle cure di chi affetto da questa patologia buongiorno a tutti mi chiamo asia ho 24 anni e oggi vi parlo a grandi linee di che cosa la fibrosi cistica la fibrosi cistica è una malattia genetica che compromette tutti gli organi a causa di un'eccessiva produzione di muco non c'è cura ancora oggi nel 2020 e diciamo che l'unica cosa per migliorarne la vita di chi ne affetto il trapianto gli entrambi polmoni io ne ho 22 e dunque per sostenere appunto la ricerca a favore di una cura degli studi per la fibrosi cistica c'è l'associazione appunto lega italiana fibrosi cistica marche ollus che si appoggia alla lega italiana fibrosi cistica nazionale ogni ragione alla propria delegazione e cosa fa va aiutare il malato proprio praticamente cioè va a finanziare quelle figure che lo stato purtroppo non può più finanziare come infermiere fisioterapista e nutrizionista eccetera e soprattutto va ad aiutare il malato quotidianamente acquistando materiali che sono fondamentali per la cura r4u è un mix di imprenditoria arte a sostegno della lega fibrosi cistica marche ollus per voi con federico di lucera imprenditore di peso restato fondamentale questo incontro tra vari nostri progetti parlando di vari nostri progetti abbiamo anche pensato come artista e come imprenditore di sostenerlo e poi dopo vi spiego come imprenditore io ho messo mio mio pensiero no per questa raccolta qui sarà sorteggiato il vincitore diciamo a fine raccolta verrà fatta una lavorazione che può essere una lavorazione in pietra una pittura di una di una stanza di una un decoro la campagna è partita il 21 di ottobre terminerà il 31 di dicembre quindi siamo partiti innanzitutto con i social poi in media perché anche voi come rossini tv ci state somma sostenendo ed è in fondamentale la comunicazione perché possono partecipare le persone da tutta italia come allora facendo quindi una donazione quindi un bonifico come potete vedere in sovraimpressione quindi codice ban con la causale lega italiana fibrosi cistica marche ollus accanto pesaro arte perché perché da lì riusciamo a capire chi aderisce al progetto inviare un'email con la fotocopia del bonifico a arte dei led chioccialo mail punto it oppure inviare sempre la fotocopia del bonifico all'indirizzo di pesaro arte via provinciale 203 posteria nuova comune di monte labate i primi di gennaio si concluderà verrà estratto a sorte un nome quindi che potrebbe essere adatto d'italia e il 10 di gennaio si decreterà comunque il vincitore di questo premio io metto in paglio come ha detto federico una installazione luminosa come arte dei led perché la luce è sempre speranza e anche in questo caso vi aspettiamo quindi sostenete sostenete la lega italiana fibrosi cistica marche ollus tutto questo anche soprattutto per la nostra franci che sta aspettando anche lei un trapianto di polmoni un bacione grande da tutta pesaro e grazie a tutti e in chiusura lo sport e in particolare il basket perché ieri sera nel nostro programma insieme a canestro condotto da marco cadedu abbiamo approfondito il buon momento della carpegna prosciutto basket pesaro reduce dalle vittorie su roma e cremona e ora la vl sogna il tris contro varese una partita che si giocherà domenica sera alla vitrifrigo arena alle 20 e 45 e ascoltiamo a tal proposito jasmin repegia allenatore della vl e l'ex della partita matteo tambone intervistati da marco cadedu con le vittorie si sicuro lavora con più tranquillità durante la settimana con meno nervosismo con più attenzione per noi ogni vittoria è stra importante ma prima di tutto prima di tutto come abbiamo detto due tre mesi fa avere una determinazione altissimo livello e se consapo con essere consapevoli che in con dobbiamo incontrare ogni partita modo giusto molto molto più essere competitivi rispetto all'anno scorso ma qualche volta si vince qualche volta si perde ma come un obbligo rimane dare 100 per cento ogni partita adesso abbiamo abbiamo fatto bene ci sono ultimi due allenamenti l'ultimo allenamento domani e per finire finire la nostra preparazione ma io sono soddisfatto che cosa abbiamo fatto fino adesso e sono rimaste le ultime cose piccole cose per completare il nostro nostro game plan diciamo così vediamo secondo me incontreremo la partita a modo giusto sicuramente è una partita più stimolante del solito contro la next squadra loro vengono al periodo non positivissimo mentre noi vogliamo continuare a fare sempre meglio gli mando ogni giorno i dettagli che ci sono mancati in partita e sarà comunque una partita difficile da resi nonostante gli manchi forse ferrero di dico sicuramente comunque una squadra competitiva che non volano mai quindi sarà una partita difficile secondi domenica step by step riesco a conquistarmi sempre dei punti importanti il corso si vede che ha fiducia io ce l'ho lui la squadra ci aiutiamo a vicenda tutti quanti e quindi il lavoro va benissimo penso che mi trovo bene sono molto contento Matteo pochi minuti fa è arrivata la notizia della positività di cinque giocatori di Cremona non so se l'avete saputo adesso adesso quali sono le vostre sensazioni adesso visto che la partita potrebbe anche prendere altri risvolti diciamo le sensazioni sono quelle che speriamo di non averci perché sapevamo che Cremona era messa benissimo qualcuno aveva qualche sintomo prima della partita quindi tanzi ce l'avevamo adesso che ce ne ha cinque positivi si aspettiamo domani ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale prima di salutarci vi ricordiamo gli appuntamenti di questa sera e di domani cominciamo dalla prima serata di oggi alle 21 e 15 orario in cui trasmetteremo un cortometraggio in cui la giornalista esperta d'arte ivana baldassarri indaga su quattro acquarelli di franco fiorucci che si trovano al villino ruggeri un documentario che è stato realizzato da giorgio ricci del cine club cesare pandolfi di pesaro l'informazione su rossini tv poi tornerà domattina in diretta dai nostri studi dalle 7 e 20 con buongiorno rossini del sabato la nostra l'arsegna stampa dei quotidiani locali per l'occasione condotta da marco cadedu sempre nella giornata di sabato ma al pomeriggio non perdetevi alle 16 la partita in diretta dell'ital service pesaro contro la signor prestito matera partita di calcio a 5 sicuramente avvincente tra due squadre appaiate in calcifica e che potrete vedere appunto sul canale 633 di rossini tv e ancora vi ricordiamo alle 18 e 30 la trasmissione in diretta della manifestazione in piazza di ristoratori pubblici esercenti 18 e 01 il futuro dopo le 18 è davvero tutto per questa edizione del telegiornale noi di rossini tv vi auguriamo un buon proseguimento di serata con i nostri programmi un buon proseguimento di serata con i nostri programmi